Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Lo so, già nello scorso video avevo detto ok, il Giappone facciamo un esperimento e poi vediamo, però onestamente appena ho finito il sono della montagna, mi sono comprato istantaneamente questo e l'ho finito veramente in pochissimo tempo, quindi mi sono detto e vabbè dai, sei in tema Giappone ormai e fanne due che magari ti vengono anche meglio. Detto questo, naturalmente ricordo proprio come tutte le volte che sì, io ho qualche conoscenza del Giappone, mi sono letto un sacco di libri eccetera, però non è paragonabile alla conoscenza che ho del Medio Oriente e del mondo islamico naturalmente, quindi fatemi sapere appunto se cose di questo genere vi piacciono, io sicuramente me ne comprerò altri di Kawabata perché ho capito che è proprio uno scrittore che comunque mi piace, mi piace molto, mi rilassa, mi fa viaggiare in un mondo diverso che però sento di, col quale sento di essere abbastanza in sintonia sotto tante cose e poi c'è veramente un senso di estetica, di bellezza e di anche delicatezza sotto tantissimi punti di vista che è molto più che notevole, non è un caso che per carità il premio Nobel non vuol dire niente, però lui effettivamente lo ha vinto, quindi è sicuramente qualche riconoscimento in più. Detto ciò, come dico sempre tutte le volte, iscrivetevi al canale Telegram di Medio Oriente Intorni perché non ho idea esattamente di quando uscirà un nuovo contenuto e di quale uscirà. Mi piacerebbe riprendere ad avere una deadline precisa, però fino a quando non trovo un lavoro vediamo un po' di arrangiarci perché Medio Oriente Intorni rimane un hobby. Detto ciò, partiamo appunto subito con questo libro. Ve lo faccio rivedere, fra l'altro copertina, questo io non l'ho detto nel podcast né nell'articolo, però tonta, tonta roba, mamma mia, veramente bella, di classe. Anche questo testo che è identico il colore rispetto a questo e il nero, cioè tanta roba, cioè guardate proprio bene perché la copertina è proprio bella, ve lo dico con tutto l'amore del mondo. Tornando a noi, concentrandoci sul libro. Io parto un attimo con la trama che tanto è molto semplice e poi mi allargerò su due aspetti secondo me sono centrali, l'aspetto della figura della geisha e l'aspetto della natura perché secondo me sono due elementi che all'interno di questo libro che poi, ecco, vi faccio anche vedere, non è molto grande, questo in particolare di 144 pagine, sono molto presenti e in un certo senso danno veramente forma e sostanza a tutto il libro. La storia in realtà è molto semplice, ci sono due personaggi, ovvero Shimamura che è un giovane ricco signore di Tokyo che si è recato alle terme in vacanza da solo e dall'altro c'è Komako. Komako al contrario è una geisha che appunto lavora lì, lavora in questo stabilimento termale e i due si incontrano ed essenzialmente ne lascerà un rapporto veramente intenso, veramente particolare, veramente anche sofisticato sotto tantissimi punti di vista che però fin dall'inizio si capisce essere un rapporto destinato a rimanere nell'arco di tempo in cui appunto questo Shimamura sta lì e tutto il libro essenzialmente è questo, cioè se uno vuole sapere la trama paro paro, questo. Ci sarebbero dei colpi di scena, però in un certo senso non ve li voglio spoilerare, ma per farvi capire quello che io ho capito, verso la fine qualcosa vi dirò, mai in maniera troppo diretta, però ecco, allargandoci un po', vi dicevo che questo libro è un libro bellissimo, ma perché? Perché questo libro riesce davvero a prendere dei concetti come la bellezza, la grazia, eccetera, e unirli ad esempio a un qualcosa come ad esempio la brevità del momento, la sospensione del tempo, ok? Io ho detto bellezza e in realtà ancora di più è piacere, perché questo si lega moltissimo al lavoro che facevano queste geisha. Mi spiego un po' meglio. Queste geisha non sono delle prostitute, toglietevelo dalla testa perché non è la stessa cosa. Geisha è molto più un'intrattenitrice, ok? E mi spiego un po' meglio e poi mi dovrò spiegare ancora meglio perché non sarà così chiara la differenza. Queste geisha venivano chiamate dai ricchi signori locali quando volevano avere dei momenti di estremo piacere e relax, ok? E quindi uno diceva, ah, quindi in realtà no. Non era un piacere fisico, ok? C'erano anche delle prostitute vere e proprie che si chiamavano Oiran, penso che esistano anche oggi, non ne ho idea. Ma queste erano veramente delle intrattenitrici, quindi arrivavano in questo posto e attraverso la musica, perché loro suonavano soprattutto questa specie di violino, attraverso la loro estrema bellezza, l'estrema grazia, l'estrema abilità anche nel parlare che non era una dote scontata, allora intrattenevano l'ospite, ma era più un tipo di piacere mentale, ok? Cioè all'ospite piaceva comunque quella carica di sensualità, perché poi ecco, questo è un aspetto importante che ho scoperto mentre leggevo il libro, ma non attraverso il libro, vi dico la verità, per i giapponesi una cosa estremamente sensuale all'interno di una donna non è tanto, che ne so, quanto sia, adesso faccio un esempio, la sciva o cose di questo tipo, o focosa, tutto, ma è molto di più la sua gentilezza, quindi se una ragazza è incredibilmente gentile, anche un po' premurosa, eccetera, vale molto di più, se per essere chiari è una che non vede l'ora di strapparsi tutto quello che è addosso e via. E fra l'altro le differenze rispetto a questo aspetto, cioè proprio tecnicamente si toglievano poco i vestiti, si vedono anche nel fatto che i kimono delle geisce hanno questo obi, ok? Questo obi ce l'hanno tutti, anche gli uomini se non mi sbaglio, è semplicemente il nodo del kimono, ma la differenza fra di loro e fra le altre, invece le vere prostitute, diciamo così, sta nel fatto che questo obi per le geisce è fatto dietro la schiena, ok? Il nodo per chiudere tutto è dietro la schiena, mentre queste altre oiran lo hanno davanti. Cosa implica questo? Nel caso che tu lo abbia davanti, che tu come hai la cintura, te la lacci, te la stacchi, pum pum pum, in due minuti hai fatto, perché prevede che tu vada in bagno. Pensate se doveste mettere un nodo, però non una cintura, è un nodo di un laccio dietro la schiena e pensate appunto di togliere, e pensate di togliervi continuamente spesso questo kimono. E impazzite signori miei, non è possibile. E infatti queste geisce, ripeto, davano quel tipo di piacere più intellettuale, molto raramente toglievano questo vestito. Poi ci sono tempi e tempi e quindi c'è stato un momento storico nel quale queste altre prostitute quasi non esistevano e molte geisce facevano anche quello. Però non c'entra col mestiere, ok? È un'altra cosa. Detto ciò, in realtà, queste geisce avevano anche una grande carriera pubblica, diciamo così, nel senso che facevano moltissimi spettacoli, magari per pochi uomini scelti, ma che erano veramente importanti e con loro iniziavano anche un vero e proprio rapporto, ok? Sempre raramente di tipo fisico, ma comunque un vero rapporto nel corso degli anni è tutto. Komako non è una geisha come una geisha normale, ok? È una geisha onsen, quindi una geisha delle terme. La differenza sta proprio nel fatto che mentre quelle di città tendenzialmente riuscivano a instaurare delle relazioni durature, serie, con altre figure che appunto le finanziavano, ma non solo, quelle delle terme erano delle geisce che stavano lì per un tipo di piacere veramente istantaneo, rapido, ma che doveva essere il più intenso possibile, proprio perché erano dei viaggiatori, non era gente con la quale instauravi un qualche tipo di relazione, è gente che magari veniva lì, se rifortunato veniva una volta ogni tot mesi, però basta, cioè non è che c'era molto altro, e questo fa sì che la loro vita intera fosse veramente sospesa in un certo senso fra il piacere, andavano a moltissime feste, cose di questo tipo, e appunto l'estrema bellezza, ma non trova mai una conclusione, ok? Qua lo leggo appunto a quello che vi ho detto prima, la natura, perché secondo me ci sono due elementi naturali veramente importanti e centrali in questo romanzo, ok? La neve e la caduta delle foglie, ok? Questi due elementi in realtà, almeno dal mio punto di vista, si associano a due personaggi differenti, perché nel corso del libro noi veniamo in contatto sì con Komako, ma alla fine veniamo anche in contatto con Yoko, e su Yoko ci arrivo alla fine, perché secondo me verso la fine, diciamo, posso spiegarmi un po' meglio. Diciamo che Komako io l'ho interpretata molto come appunto la neve, in che senso? Nel senso che il suo rapporto con Shimamura è proprio di questo tipo, cioè loro sono veramente, cioè lei è veramente bella, stupenda, fra l'altro lei è geisha, quindi si colora di bianco il volto, a maggior ragione, e il piacere che lui prova a non stare con lei è qualcosa di estremamente intimo, sensuale, con le regole giapponesi che vi ho detto prima, quindi di estrema gentilezza, grazia, bellezza in ogni cosa che fa, nel come si muove, nel come parla, nel come si pone, ok? Questo tipo di bellezza che però, come la neve, appena appunto uno è riuscito fra virgolette a comprenderne la meraviglia, la... quanto è fantastica questa cosa, quella si scioglie, ok? e infatti in tutto il romanzo se io non mi sbaglio cioè non mi ricordo neanche se si danno un bacio mai Shimamura e appunto Komako eppure Komako magari dorme insieme appunto a Shimamura vanno insieme le terre a un certo punto passano veramente tanto tempo insieme con lei che per dire lui sembra a un certo punto che se ne vada via allora lo insegue no dove vai eccetera però allo stesso tempo tutti e due lo sanno che non... se per caso fanno qualcosa di altro non dura perché Komako è destinata a rimanere lì mentre Shimamura è destinato a essere un semplice turista che è venuto lì si conosce questa si è venuto per lei si ma non è venuto per rimanere con lei è venuto per vederla per godere appunto della sua presenza e poi andarsene via quindi questo tipo questa tipologia di bellezza questa tipologia di rapporto di amore è fortissimamente ed è centrale per davvero nel romanzo non è un caso che si svolga nel paese delle nevi che è appunto un titolo un programma almeno da questo punto di vista vi dicevo che poi c'è anche un altro elemento e qua in realtà entriamo un po' in area spoiler nel senso che io non vi dirò cosa succede però ecco poi quando leggerete il romanzo perché vi consiglio di leggerlo è molto bello mi direte ah però in realtà ce l'aveva detto più o meno cioè me l'aspettavo quasi perché a un certo punto lui incontra questa Yoko in realtà lui la incontrerà proprio all'inizio ma non si sa che sia lei quindi in realtà il fatto che sia proprio lei è abbastanza irrilevante diciamo che lui la incontrerà all'inizio ma poi soprattutto la incontrerà più tardi e solo verso il finire del romanzo si accorgerà della sua bellezza bellezza che quando tu lo leggi non lo sai è destinata a finire fra ma non molto e è destinata a finire proprio nel momento stesso nel quale lui comprende l'assoluta bellezza di questa ragazza io ho letto appunto cioè perché nel romanzo ti viene anche messa appunto questa immagine nel frattempo delle foglie che cadono eccetera ok e quella è la rappresentazione perfetta di quello che sarà in un certo senso la sorte di Yoko perché appunto le foglie dell'albero tu le vedi e inizialmente sono verdi ovviamente ok il classico l'albero che le caccia le tiene verdi almeno all'inizio poi man mano che passa il tempo diventano sempre più gialle rosse e diventano sempre più belle ok paradossalmente il momento in cui sono più belle in assoluto è il momento in cui stanno per cadere è la stessa cosa nel libro nel libro lui si accorge della sua massima bellezza proprio quando in realtà mancano poche pagine affinché lei cada definitivamente e non si rialzi più fra l'altro ecco ci ho pensato prima mentre facevo il podcast diciamo che io non vi dirò perché ma i colori dell'autunno ci sono tutti quindi è proprio la rappresentazione più totale appunto di queste foglie che cadono anche per come finirà la sua storia ecco non mi addentro più in quello diciamo però che la natura ormai mi sono accorto leggendo due libri non tutti ma voglio leggerne altri di Kawabata è veramente centrale ed è veramente uno specchio appunto per quello che avete davanti oltre al fatto che questa natura non viene raccontata come c'è un albero c'è un albero le cui foglie cadono c'è che ne so una bella montagna no no Kawabata vi descrive proprio precisamente come ad esempio la neve va a toccare gli alberi come le foglie cadono una per una dei vari colori come ad esempio l'aria che si respira in questo posto vi faccio un esempio cretino tu inizi il romanzo con lui con Shimamura che è questo treno che sta per arrivare al paese delle nevi e lui cosa fa guarda nel vetro del treno ok una roba tutti facciamo abbastanza normale però lì ti descrive prima appunto quello che lui sta vedendo quindi questo paese delle nevi di notte con tutto questo bianco con tutta questa sua bellezza già fin dall'inizio sia anche quello che lui vede riflesso perché lui nel frattempo vede una che poi si rivelerà essere Yoko ok quindi c'è lui che descrive il volto di lei descrive quello che lei sta facendo con quest'altro signore che inizialmente pensa essere qualche membro della sua famiglia in realtà non c'entra niente e lo descrive per tipo tre pagine se la prende proprio comoda è ma perché lì l'importante è comunicarti la bellezza l'estetica di quel momento lì anche sensualità senza che però ci sia niente di incredibilmente sensuale almeno per noi o noi non giapponesi eccetera però è veramente veramente bello vi dico proprio onestamente io ho apprezzato di più il suono della montagna perché il suono della montagna comunicava delle cose che più mi interessavano però proprio mentre ripensavo a questo libro non ho potuto fare a meno di dire che è un capolavoro perché palesemente l'autore non gli ne fregava niente di quello che a me piace l'autore voleva comunicare quel determinato tipo di sensazione quel determinato tipo di atmosfera quel determinato tipo di concetto nella maniera più bella possibile ok e quindi cioè è un romanzo che è finalizzato a quello un po' come da questo punto di vista si potrebbe paragonare con le pinze molto con le pinze a lo straniero di Camus per questo semplice motivo anche nello straniero di Camus diciamo che quello che avviene lì è proprio secondario cioè non interessa lì ti vuole solo far vedere l'estranimento più totale ok coniugato per come la gente reagisce con il protagonista però in questo caso comunque il romanzo nasce quasi per comunicarti quella sensazione quello stato d'animo quella cosa che è successa va detto questo sì che in realtà questo pare essere stato qualcosa che è accaduto davvero nella vita di Yasunari Kaobata però per come è stato scritto io sono abbastanza sicuro che appunto l'obiettivo reale fosse sì riproporre magari qualcosa che lui ha già visto ma riproporlo facendoti percepire al 100% quello che lui ha percepito e vi faccio anche un esempio che va dal mio punto di vista a rafforzare questa mia tesi che c'è un punto un po' caotico dove tu non capisci niente proprio niente cioè è una scena confusa lui che si muove su questa montagna mentre c'è lì Komako mentre capiscono che c'è qualche altra persona io lì non ho capito quasi niente però mi sono anche detto se un libro che parte dall'idea di comunicarti quello che lui ci aveva provato è tutto probabilmente in quel momento lì aveva capito poco c'è il caos effettivamente nella scena quindi ci sta che tu anche a livello di lettore non capisca molto cosa sta succedendo e tutto proprio perché dovrebbe essere dal mio punto di vista un libro che pone appunto il suo accento massima sul riproporti questo tipo di esperienza detto ciò consiglio veramente di comprarvi appunto il paese del nevi vi faccio rivedere la copertina penso che sia un romanzo molto bello ma in generale mi sono veramente appassionato a Kawabata perché rappresenta in un certo senso proprio l'idea che ho io del Giappone del giapponese eccetera e quindi in questo momento che avevo veramente bisogno di un po' di stacco vi dico la verità è stato veramente qualcosa di prezioso fatemi appunto sapere se vi interessa perché io sicuramente appena finisce il ramadan adesso no perché volevo leggere qualcosa di un po' più attinente diciamo così me lo andrò a recuperare tanto poi sono dei libri abbastanza corti però dei libri che veramente magari non ti lasciano chissà che a livello proprio di che ne so conoscenze o a livello di concetti cose così però ti lasciano una forma incredibile ti lasciano un gusto veramente speciale e ti mandano veramente in Giappone cioè quello che uno si immagina almeno io come il Giappone lo trovo tutte le volte in questi libri è veramente wow detto ciò ancora una volta la copertina ancora una volta vi dico di iscrivervi al canale Telegram per questo lo metto qua e noi ci vediamo alla prossima ciao Grazie a tutti.